Ottavo posto, Mons, 45. La corrente, la corrente, Distrindo il piede, amore, sai te, L'ultima curva, insuperabile. Ehi, io lo so cos'è che non fai me stasera, E' come se si fosse rotta la città. I Mons di Marco Masini. Settimi, Nice Cream, 46 punti. In Ice Cream di Rene Grandi. Sesto posto per Anxialytics, 49 punti. Gimenti, come se si fosse rotta la città. Genti. G�i, 30 punti. Gcomi di Pagolini Ci potrebbe trattare di bisogno d'amore Meglio non è più La band seguita da Dolce Nera Quinto posto per gli Actun Babies 50 punti La band seguita da Rocco Tanica Living Dolls 51 punti Quarto posto Siamo fuori di testa Ma diverse da loro Siamo fuori di testa Ma diverse da loro Per le ragazze seguite da Francesco Sarcina Secondo posto c'è un exequo JF Band 53 punti Scusi lei Mi ama o no Non lo so Però ci sto Let me see your beauty When the witnesses are gone Let me feel your moving Like they do in Babylon Seguita da Federico Zampaglione Isola delle Rose 53 punti Ma sana la prima Che incontri per strada che Coprirai cano Per un vato mai dato Be it Be it No one's must have benefited Show me how fucking Strong is your fight It doesn't matter What's wrong or right Just be there Seguite da Enrico Neggiotti E questa puntata E' vinta da Le Cherry Bombs Di Giussi Ferreri Con 60 punti I am beautiful No matter what they say Words can bring me down I am beautiful In every single way Words can bring me down Volevo cuciere Volevo cuciere Avec moi Ce soir Volevo cuciere Avec moi Volevo cuciere Avec moi Montecatini Grazie